Io ringrazio il Vescovo Merisi per avermi personalmente invitato a questo convegno, ringrazio anche il direttore Soddu per le parole troppo buone e troppo piene di riconoscimenti, non li ho neanche tutti quelli che ha detto. Ma vi dico la mia gioia di essere qui, anche perché l'amico amicissimo Giovanni Nervo fin dall'inizio mi aveva invitato ai primissimi convegni e ho sempre seguito l'itinerario della Caritas nella Chiesa italiana con molta simpatia, a volte anche con apprezzione, ma sempre direi con uno sguardo grato per la sua presenza. E poi sono anche contento di essere qui in Sardegna, perché credo che non è una captatio benevolente, amo particolarmente questa terra, che è l'unica terra che da 42 anni ogni estate mi vede solo qui per quei pochi giorni di vacanza che possono essere concessi a un monaco, ma sempre e soltanto la Sardegna. Esattamente la costa rei, perché non mi pensino in qualche santuario. Il tema di questa riflessione porta un'espressione di Papa Francesco, un'espressione con la quale egli vuole dire come secondo il suo cuore debba avvenire l'evangelizzazione, l'andare con il Vangelo fino alle periferie esistenziali. Per più di 17 volte Papa Francesco è ritornato nei suoi interventi su questa espressione già enunciata nella Messa Crismale del 28 marzo 2013 e poi soprattutto spiegata nel discorso al convegno ecclesiale della Diocese di Roma il 17 giugno sempre dello scorso anno. Dunque le periferie esistenziali, secondo il Papa, sono i luoghi in cui, e faccio riferimenti precisi alle sue parole senza ogni volta darvi la fonte, in cui c'è sofferenza, c'è sangue versato, c'è cecità che desidera vedere, ci sono prigionieri di tanti cattivi padroni. Ma ancora, sono i luoghi abitati da tutti coloro che sono segnati da povertà fisica, intellettuale e morale. Ancora le sue parole, sono i luoghi dove sta chi sembra più lontano e più indifferente. Sono luoghi dove Dio non c'è, sono le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo. Questa espressione di Papa Francesco, periferie, geografiche e esistenziali, ha avuto una grandissima fortuna, è ormai ripetuta ogni volta che si parla o dell'evangelizzazione o della presenza dei cristiani nel mondo, perché è un'espressione che indica gli estremi confini, là dove forse i credenti non vorrebbero andare o fanno difficoltà ad andare. Ma io credo che questi luoghi in realtà sono già presenti all'interno della Santa Scrittura. Non sono una novità, io sono contento che una formula del Papa sia così ben accolta e ripetuta, però, insomma, la scrittura ce li ha sempre indicati, sono espressioni, ve le dico nelle diverse traduzioni italiane, ma le isole dei lontani, gli estremi confini, che non erano assolutamente l'aldilà semplicemente dei mari verso i quali soprattutto gli ebrei neanche osavano pensare, ma erano effettivamente i luoghi periferici dove il Signore Dio di Israele non era conosciuto, né regnava, né aveva svolto un'azione di liberazione. E allora voi trovate nei profeti, nei salmi, queste espressioni. Certamente Gesù nel suo Vangelo non ha questa espressione, ma proprio perché ha voluto incontrare uomini e donne in situazioni molto diverse, ma tutte contrassegnate, potremmo dire, da un bisogno, ecco, quelli che ha incontrato Gesù sono i rappresentanti delle periferie esistenziali. Dunque, l'indicazione ci viene dalla parola di Dio, ci viene dalle parole e dalle azioni di Gesù e noi dobbiamo tenerle presenti, dunque, come realtà. Ma ha un patto, ha un patto, ha patto di non definirle prima. Io ho un po' paura di questa espressione periferie esistenziali, perché siamo indotti da quello a dirci quale sono e predefinirle prima eventualmente di raggiungerle, conoscerle dal di dentro, ascoltarle. E questo è un grave rischio. Io faccio qui un discorso esigente per noi cristiani. Io sono convinto che se vogliamo veramente interpretare la parola e l'azione di Gesù, testimoniate nel Vangelo, e se vogliamo essere Suoi imitatori, dobbiamo smettere di predefinire, di preleggere uomini e donne scegliendoli e poi decidendo di andare verso loro. Mi sembra che noi, in qualche modo, continuiamo a farci una domanda sbagliata, errata, sia nell'evangelizzazione, sia nel servizio della carità. che è servizio inclusivo all'evangelizzazione. Nessuno pensi che può esserci evangelizzazione senza la carità. Qual è la domanda sbagliata? È la domanda che troviamo non a caso già nel Vangelo, anche se non condannata in modo manifesto. E la domanda di quel dottore della legge, chi è il mio prossimo? Questa è la domanda errata, sbagliata. e quando noi diciamo quali sono oggi le periferie esistenziali, noi stiamo percorrendo la domanda sbagliata del dottore della legge. Voi conoscete bene la parabola e non a caso alla fine Gesù gliela capovolge. Gesù gli dice dunque dimmi chi si è fatto prossimo? Perché la domanda chi è il mio prossimo porta certamente chi la fa a guardare, a guardare con la propria visione culturale, intellettuale, morale, determinare eventualmente il bisogno e poi assumerlo come luogo verso cui andare o persone verso cui andare. Era l'errore del dottore della legge ci dice Luca. Gesù gli capovolge la domanda e gli dice non dire mai chi è il mio prossimo ma fatti l'unica domanda legittima chi si è fatto prossimo? perché il prossimo è colui che io decido di incontrare. Questa è la verità cristiana. Dunque mai porci le domande io capisco che sono domande che affiorano dentro noi emergono tanto più in un ministero come il vostro che è una diaconia della carità. Chi sono i poveri? Chi sono i bisognosi? quali sono le periferie esistenziali? Ma Gesù appunto ci dice che questo è un cammino sbagliato e la precisazione di Gesù è decisiva. Se uno si mette nella logica di ricercare chi è il prossimo finirà per prestabilire chi vuole incontrare. Finirà per decidere lui il bisogno che ha il prossimo mentre la necessitas è quella di farsi rendersi prossimo a chiunque si incontri uomo o donna che ci passa accanto. La vera necessitas è in realtà la decisione della prossimità verso l'altro non importa chi sia lui chi sia lei noi non ci avviciniamo all'altro perché è nel bisogno noi dobbiamo avvicinarci all'altro perché è un uomo e una donna è un fratello e una sorella in umanità è un figlio di Dio per il quale Gesù Cristo è morto basta proprio nell'incontro conosceremo poi il bisogno che indubbiamente sarà presente in chi vogliamo incontrare solo così noi facciamo un cammino umanizzante che incontriamo e umanizzante noi Gesù guardiamo ancora lui incontrava uomini e donne ci raccontano i Vangeli sovente anonimi erano persone che Gesù vedeva guardava conoscete bene i verbi orao blepo nel suo vivere quotidiano e già in questo vedere c'era la volontà di mettersi semplicemente in relazione questo è un punto capitale già per noi noi sappiamo vedere sappiamo guardare ecco allora che proprio perché vedeva e quindi voleva mettere in moto un movimento di avvicinamento all'altro ecco avvenire la prossimità Gesù si fa vicino o accetta che l'altro si sia fatto vicino a lui quindi lo ascolta oserei dire con un'espressione biblica volto contro volto occhio contro occhio mano nella mano ed è in quella prossimità estrema che Gesù conosceva la precisa situazione di bisogno di sofferenza in cui l'altro si trova non a caso in più delle volte Gesù fa delle domande che cosa vuoi che io ti faccia non va verso l'altro dicendo io so cosa devo fare per lui cosa vuoi che io ti faccia a volte incontro un malato nel corpo altre volte un malato nella mente altre volte un malato nello spirito altre volte si trova di fronte un peccatore altre volte si trova anche in casa di un ricco come il ricco che lo ha invitato a pranzo ma sempre vedete Gesù innanzitutto voleva incontrare l'altro e vedremo in che senso eventualmente voleva incontrare il bisognoso perché su questo è molto preciso il Vangelo voleva incontrare chi si sente bisognoso ma non chi lui definiva come bisognoso e proprio in questo Gesù si interessava della sofferenza dell'altro non del peccato dell'altro lo dico perché noi uomini di chiesa sovente quando incontriamo l'altro ci interessiamo del suo peccato più che della sua fatica e della sua sofferenza vivere e questo non è secondo il Vangelo la periferia spirituale o esistenziale in cui l'altro abita è scoperta da Gesù nell'incontro non è da lui prestabilita e Gesù lo dice sono venuto per i malati non per quelli che si sentono sani sono venuto per i peccatori non per quelli che si sentono giusti queste parole con cui si apre il ministero di Gesù nel Vangelo di Marco sono parole molto dure Gesù chiude chiude la rivelazione la chiude ogni volta che sente che quello di cui lui si è fatto prossimo non confessa un suo bisogno bisogno di essere risanato perché è malato bisogno di essere perdonato perché è un peccatore abbiamo ancora sentito nel Vangelo domenica se foste ciechi ma siccome voi dite ci vediamo il vostro peccato rimane e rimarrà perché queste sono le cose più gravi che possono capitare in noi in noi uomini credenti uomini di chiesa abilitati certamente a una diaconia a un servizio in nome di Cristo ma di sentirci in una situazione di chi in qualche misura non si sente né bisognoso lui e vuole aiutare gli altri né peccatore lui e vuole convertire gli altri c'è un itinerario di Gesù che mi ha sempre impressionato è capitato anche a voi di leggere qualche come posso dire testo riguardante la nascita o la manifestazione dei grandi iniziatori delle religioni il primo loro gesto è sempre qualcosa di glorioso Buddha si manifesta con una predica in cui tutti sono conquistati ma ometto la stessa cosa addirittura convergono a lui tutti per applaudirlo Gesù la prima cosa che fa si mette in una fila di peccatori lui che non aveva peccato in una fila indiana per chiedere al suo maestro Giovanni Battista di rimettergli i peccati mediante un'immersione questo è l'inizio del suo ministero e l'ultima sua situazione sarà quella in mezzo a due peccatori condannati a morte in cruce vedete questo itinerario che Gesù ha fatto di kenosis di spogliazione per raggiungere noi uomini e provarci là dove noi siamo il nostro dio non ci ha chiesto di salire in cielo non ce l'ha chiesto è lui che è sceso dal cielo per venire in mezzo a noi e raggiungerci nelle nostre situazioni e nel credo purtroppo non sappiamo più quel che diciamo ma arriviamo a dire che lui discese agli inferi e voi sapete che inferio e inferno hanno un unico termine non ne sono due e indicano non tanto la condizione di chi eventualmente è punito in eterno ma il luogo dove Dio è quasi assente dove le forze del Signore sembrano quasi inefficace dove c'è la tenebra e la morte Gesù è sceso lì e come hanno capito i padri della chiesa è andato a trovare Adam dove era Adam non gli ha detto di salire verso di lui lo canta molto bene la liturgia bizantina la notte di Pasqua questo itinerario fatto da Gesù è l'itinerario del discepolo di chiunque la sequela di Gesù è chiamato ad annunciare e testimoniare il Vangelo il discepolo di Gesù chi è proprio perché si chiama cristiano è uno che cerca di rifare la vita fatta da Gesù niente di meno per quanto è possibile con tutte le mancanze il cristiano deve fare come Gesù ha fatto parlare come lui ha parlato incontrare l'altro come lui lo ha incontrato e questo è ciò che è fondamentale si tratta di narrare di raccontare Gesù come Gesù ha raccontato il padre e Zegesato Giovanni 1 18 Dio non l'abbiamo mai visto ma il figlio ce ne ha fatto il racconto gli uomini e le donne di oggi possono dire Cristo non l'abbiamo mai visto ma quel cristiano quella chiesa ce ne ha fatto il racconto e Zegesato fate queste precisazioni cristologiche preliminari vorrei con semplicità precisare il cammino del vangelo della carità e il suo stile due punti semplicemente il primo noi confessiamo che il soggetto assoluto dell'evangelizzazione è Dio che invia il figlio nel mondo e proprio il figlio nella forza dello spirito santo consegna la buona notizia all'umanità intiera e sappiamo che la chiesa è chiamata nella storia e nella compagnia degli uomini a predisporre tutto perché questa missione del figlio possa raggiungere gli uomini per esser dunque fedele a questa vocazione c'è un primo passo da fare che deve fare la chiesa e che dobbiamo fare tutti noi ciascuno di noi cioè decentrarci certamente io oso dire queste cose perché le dice anche papa francesco le osavo dire anche prima ma non era così assodato l'espressione di papa francesco una chiesa che deve decentrarsi tra l'altro anche questo lo dice il Vangelo non so se vi siete mai chiesti perché Gesù abbia amato tanto chiamarsi figlio dell'uomo e parlare sempre di sé alla terza persona uno che legge i Vangeli con degli strumenti oserei dire psicologici o delle scienze umane si pone la domanda parla di sé alla terza persona tutte le volte il figlio dell'uomo verrà il figlio dell'uomo ha ora il potere il figlio dell'uomo sempre la terza persona ebbene quando fanno delle letture di questo testo dicono la sua volontà di decentrarsi di non porsi al centro perché il centro doveva essere tenuto dall'annuncio del regno di Dio così fondamentale nei Vangeli quanto più tardi se ne è espersa l'espressione allora questo movimento di decentramento non è facile per ciascuno di noi non lo è neanche per la Chiesa tutti noi siamo tentati di stare al centro di attirare a noi gli uomini e le donne di sentirci soddisfatti di noi stessi usò un'altra espressione di Francesco di sentirci Chiesa introversa con la variante alcune volte di sentirci assediati dunque paurosi allora il primo passo da compiere è cercare di essere una Chiesa in uscita Evangelii Gaudium 20-24 in modo da lasciare Cristo al centro e annunciare il Vangelo a tutti in tutte le situazioni senza repulsioni e senza paure troppo spesso negli ultimi decenni abbiamo dato l'immagine di una Chiesa che come la Chiesa nei giorni successivi al fallimento umano del loro profeta e rabbi appare una comunità che ha paura del mondo che ama rinchiudersi tesa a conservare la memoria piuttosto che sentirla come buona notizia vero debito unico debito vero che noi abbiamo verso gli uomini non cristiani per chiarire questo Papa Francesco è ricorso addirittura a un'esegesi fantasiosa permettiamolo il Papa è un'esegesi fantasiosa che non sta né in cielo né in terra ma con ogni probabilità lui riesce a toccarsi anche così avete presente quando commenta il passo dell'Apocalisse io sto alla porta e busso se uno sente la mia voce mi apre io entrerò cederò con lui e lui con me e voi sapete che Papa Francesco dice no queste parole le dice Gesù ma dal di dentro e le dice alla Chiesa che lo tiene chiuso lui bussa la porta per uscire e la Chiesa lo tiene chiuso vi ripeto esegesi fantasiosa ma che ci ha un segno di un passo che con ogni probabilità abbiamo difficoltà a fare sulle strade del mondo le abitudini è così io mi rendo conto permettetemi di dire adesso che ho 70 anni come ho tante abitudini care e che mi fa difficoltà qualche volta a mutare un certo diletto alla tradizione una certa inerzia dovuta alla nostalgia per quello che si è sempre fatto tutto questo unito al timore di ciò che appare nuovo inaspettato inedito possono paralizzarci fino a rendere le nostre comunità addirittura sfittiche eppure abbiamo avuto alle spalle Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II una Chiesa che è stata capace di essere profetica e di parlare ai non cristiani perché abbiamo tanta paura? abbiamo paura perché siano diventate una minoranza? Ma siamo sicuri che un tempo la Chiesa fosse maggioranza? Anche questo è un dato semplicemente che viene da letture del primo novecento che hanno cominciato a parlare di cristianità e di maggioranza ma in realtà Gesù non ci ha chiesto di guardarci misurarci come minoranza o maggioranza ma di sentirci sempre pusillus grex non dimentichiamo che quando parla a noi alle nostre piccole comunità dice piccolo gregge non temere piccolo gregge non temere pusillus grex ciò che è importante del pusillus grex è che sia significativo che sia capace di essere sale della terra perché sta mescolato ma sa anche essere luce del mondo perché sa far vedere la sua differenza rispetto alla mondanità la chiesa deve sentire di nuovo la sete di dialogare perché altrimenti non può incontrare la sete degli uomini al pozzo di Sicar è stato possibile quell'incontro perché si sono incontrate due seti due assetati Gesù e la donna samaritana ecco perché il dialogo non è un'opzione possibile è il modo di essere chiesa noi siamo nati il giorno della Pentecoste il giorno del dialogo tra i giudei e le genti quanti popoli in quel giorno è pur capace di intendere un'unica buona notizia nella propria cultura nella propria lingua nel proprio cammino di umanizzazione come non ricordare queste parole profetiche di Paolo VI la chiesa deve sempre venire in dialogo col mondo in cui si trova a vivere la chiesa si fa parola la chiesa si fa dialogo la chiesa si fa conversazione ecclesi a un suo a 67 e non dimentichiamo mai la descrizione dei cristiani presenti in quello splendido testo che è la lettera Dionieto uomini e donne nella compagnia degli uomini cittadini leali sottomessi alle leggi della polis senza una lingua sacra senza abitazioni separate ma capaci di manifestare la differenza cristiana rispetto ai pagani sapevano vivere dialogando ma soprattutto esser solidari pensate un po' l'ingenuità di quel testo ma che è significativa mettono in comunione i beni non mettono in comunione i letti straordinario sembra poco ma è una dinamica tutto quello che deve essere condiviso per solidarietà è condiviso c'è una sola fedeltà quella della storia dell'amore del cammino che non può essere assolutamente smentita ma così erano significativi dice quel testo che erano amati dagli altri addirittura anima del mondo oggi allora più che mai noi siamo immersi in una cultura che ha bisogno proprio di questo nostro cammino non dimentico anche se non ma tardo che noi siamo in una cultura in cui è dominante la comunicazione virtuale siamo sempre connessi dunque ci sentiamo sempre in relazione anzi oberati da troppe relazioni al punto che non riusciamo a viverle adeguatamente e con un discernimento necessario ma sono gli stessi sociologi che ci mettono in guardia e denunciano un fenomeno che noi come cristiani avremmo dovuto essere i primi a denunciare mi riferisco a quella denuncia che è stata fatta peraltro da un filosofo sociologo che non è cristiano Luigi Zoia il quale giustamente avverte Mice aveva profetizzato la morte di Dio all'inizio del secolo scorso in realtà oggi è arrivata la morte del prossimo certamente perché c'è stata una certa morte di Dio ma se è morto Dio ed è morto il prossimo è impossibile vivere il comandamento cristiano sintesi di tutti gli altri dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà che abbiamo nei confronti della prossimità del farci prossimi del renderci vicini gli uni agli altri io mi permetto di dirvi che il non fare la carità da parte del sacerdote delle vita nella parabola del buon samaritano è stata dovuta non a una particolare cattiveria non erano cattivi quel sacerdote e quel le vita neanche perché appartenevano a una casta ma semplicemente dovuta al fatto che non si sono resi prossimi all'uomo bisognoso l'unico errore che hanno fatto sono passati oltre non si sono avvicinati se si fossero avvicinati se avessero messo il volto contro il volto di quel malcapitato se avessero guardato negli occhi quel disgraziato anche loro avrebbero sentito compassione anche loro come il samaritano sarebbero stati presi alle viscere quell'espressione greca che tutti conoscete compassione come qualcosa che morde alle viscere e avrebbero usato misericordia noi oggi come chiesa facciamo la carità più che in altre epoche ne possiamo essere certi io mi ricordo bene quando ero piccolo la carità qualcuno innanzitutto la gente era povera quindi non c'erano tante possibilità l'orizzonte era ristretto al mondo che conoscevamo e che se era un piccolo paesino come il mio del Monferrato si sapeva nulla neanche delle varie fami nel mondo che sono state tutte avvertite dopo dai mass media quando sono arrivate negli anni sessanta la carità era poca era poca certamente poca però attenzione noi oggi abbiamo tante possibilità facciamo metto l'accento sul fare la carità molto più di un tempo ma non siamo più capaci della prossimità che c'era una volta occorre decidere di farsi prossimo incontrare l'altro superando precomprensioni pregiudizie fatiche diffidenze l'altro è sempre un fratello la conversione pastorale che ci attende non riguarda tanto l'oggetto dell'evangelizzazione quello non cambia tra l'altro Gesù l'ha reso così sintetico convertitevi il regno di Dio si è avvicinato ha detto di non dire niente di più ma l'itinerario che noi dobbiamo fare per renderci prossimi e lo stile di questo itinerario questo si che chiede una conversione pastorale dal cuore ecclesiale che è l'Eucaristia noi dobbiamo andare all'incontro dell'uomo trovarvi il bisogno e saperlo leggere come carne di Cristo un cammino quello della prossimità che può anche essere umiliante faticoso come l'incontro con i lebrosi perché è un cammino che chiede di condividere le sofferenze di chi incontra per accompagnarle nel quotidiano di una vita umana che cerca senso e chiede di essere salvata certo noi dobbiamo andare verso poveri zoppi storpi ciechi invitarli al banchetto andare per le strade le piazze lungo le siepi e i crocicchi dove il Vangelo deve giungere perché nessuno lo lo fa brillare lo evoca vi allude ma attenzione chi di noi non conosce periferie esistenziali chi di noi non ha transitato in una periferia esistenziale prima o poi nella nostra vita e se uno non vi ha transitato o attraverso la malattia o attraverso la separazione o attraverso la solitudine o attraverso la malattia psichica vi transiterà vi transiterà la sofferenza la sofferenza la morte la malattia la povertà lo stato di chi è ultimo non può essere rimosso ma non per fatalità ma perché noi uomini non siamo capaci a salvarci per questo Gesù ha detto i poveri li avrete sempre con voi non è che invocasse una fatalità dunque ve li dovete tenere e ci saranno sempre ma perché questo in realtà la povertà è cangiante cambia i volti cambia gli aspetti ma la trovate certo da noi si era fatta rara la povertà di chi ha fame adesso con la crisi è tornata chi di voi non conosce ormai soprattutto voi della Caritas mi sembra che siete i più autorevoli a questa lettura quelli che vengono a cedervi ormai lo vedo anche nella mia comunità pasta bottiglia di olio un po' di riso non vengono più a cederne anche qualche soldo insomma noi dobbiamo avere questa consapevolezza secondo punto lo stile certamente il testo esortativo di Paolo nella lettera ai cristiani di Colossi che avete scelto quale exergo al convegno rivestitevi di sentimenti misericordia bontà umiltà mausuetudine pazienza non mi soffermo perché si è già soffermato nella prolusione Monsignor Merisi vuole certamente indicare lo stile con cui il Vangelo può raggiungere le periferie esistenziali evoca lo stile da assumere nel vivere il Vangelo della carità lo stile della vostra azione che possiamo definire ecclesialmente diaconia e il servizio e la diaconia è sempre caritas sempre agape anche nella traccia che è stata pensata e redatta per questa occasione voi parlate di stile stile di profonda relazione stile di compagnia vorrei quindi con voi dire qualcosa sullo stile dell'azione caritativa nella consapevolezza che Gesù ha molto insistito su questo aspetto possiamo dire che ha precisato molto di più lo stile del discepolo si è dolungato nel tratteggiare i caratteri della missione molto più che sull'oggetto sulla buona notizia pensate gli invii in missione il mandato è breve dite che il regno di Dio è venuto curate i malati ma poi quando andate non due bastoni non due tuniche non soldi nella cintura ma tutto quello stile di chi si deve mostrare disinteressato rispetto al dono che fa il Vangelo è buona notizia non solo per il contenuto ma per lo stile con cui si annuncia l'azione caritativa dei discepoli non può solo essere un fare il bene deve essere un'azione che anche nelle modalità con le quali è esercitata deve mostrare la carità di Dio qui occorre sempre fare revisione ognuno di noi la chiesa voi che avete l'impegno in questa diaconia della carità sempre discernere se lo stile è adeguato all'opera che voi fate dobbiamo quindi mettere innanzitutto in rilievo che proprio nel dare un itinerario al Vangelo della carità dobbiamo tenere presente la povertà una chiesa può essere per i poveri e agire per i poveri solo se lei è povera e il cristiano quale soggetto che si indirizza ai poveri deve anche lui essere povero non si tratta attenzione della miseria e nessuna lettura pauperistica o troppo facilmente francescana del Vangelo noi in occidente ne paghiamo lo scotto di una certa leggenda pauperistica Gesù non era un misero ha mai patito la fame se non per digiuno ma non era un ricco era un povero attenzione non finiamo eventualmente ogni stagione di applicargli quali sono i nostri desideri perché ormai Gesù ogni stagione gli si dice qualcosa no ascoltiamo il Vangelo e io sono convinto dunque oggi che in primo luogo è urgente per la Chiesa è urgente per la Caritas non tanto aggiungere azioni a quelle in cui siete già impegnati quanto assumere la povertà come stile questa è una sfida enorme non è un caso che Papa Francesco abbia detto fin dall'inizio io voglio una Chiesa povera oltre che per i poveri avete sentito e lo continuo a dire ma anche qui c'è solo la fedeltà al Concilio se non vogliamo andare al Vangelo come posso non leggervi quel brano che quando fu scritto io allora ero un ventenne ma mi trepidava il cuore come Cristo ha compiuto la sua opera di redenzione nella povertà così anche la Chiesa è chiamata a prendere la stessa via Gesù Cristo per noi da ricco che era si è fatto povero così anche la Chiesa benché per eseguire la sua missione abbia bisogno di risorse umane non deve cercare la gloria terrena ma deve come il suo esempio diffondere umiltà e abnegazione così la Chiesa può portare davvero vi ricordate il testo Lumen Gentium Otto non è un testo periferico è un testo cristologico asse della Chiesa e della sua essenza così la Chiesa può portare la buona notizia ai poveri e la Caritas in un certo senso benché abbia bisogno di risorse parafrasolumen Gentium deve poi però assumere uno stile di povertà e in quelli che portano il Vangelo della Carità ma anche in tutto il suo essere diaconia questo a noi appare scandaloso paradossale ci verrebbe da dire come disse un eminente ecclesiastico me lo disse un giorno io non voglio una Chiesa povera caro ma una Chiesa più ricca in modo che possa fare maggiormente bene e cosa volete l'ingenuità non è il più grave dei peccati ma questo annuncio della povertà è il cuore dell'evangelizzazione della Carità una Chiesa e dei cristiani che non accettano la dinamica della spogliazione non saranno mai capaci di portare la buona notizia del Vangelo e attenzione quelli che si incontrano non avranno mai piena fiducia in noi ci sentiranno quelli che danno 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 ma non hanno poi tempo né alla presenza né al camminare insieme né a quel bisogno di compassione che aiuterebbe davvero la nostra umanizzazione Gesù è venuto a evangelizzare i poveri ed è stato povero ha sempre rifiutato quelle ricchezze e quei beni di questo mondo che Satana gli ha offerto nella seconda tentazione narrata da Luca quella tentazione in cui viene svelata la vera identità del demonio perché dice Luca il demonio è il padrone di tutta la ricchezza della terra ricordatevi il demonio cosa dice Gesù io ti darò tutto questo potere e questa gloria delle ricchezze perché a me è stata data e io la do a chi voglio e chi ha tanti beni e non sa spogliarsene e non sa entrare nella dinamica della carità e il Vangelo non sono io lo sappia o non lo sappia è un amministratore di Satana sta a noi scegliere amministratore amministratore di Satana Luca 4 18 Papa Francesco lo dice ah come vorrei una chiesa povera e per i poveri continua a dirlo ma il cammino è difficile eppure dobbiamo farlo ed è una sfida sapete per un servizio come la carita perché alla fin fine essere poveri per una comunità ve lo dico di monaci è abbastanza facile in quanto non abbiamo poi da aiutare gli altri se non quelli che passano condividiamo ma quando la carita deve assolutamente fare delle opere che possano essere di aiuto ha bisogno di risorse eppure assumere questa logica che le risorse non vanno demonizzate ma devono trovare il loro orientamento in una dinamica di spogliazione di quelli che ne sono amministratori e deve raggiungere quella comunità dei poveri quella tavola dei beni della terra che il Signore ha voluto per tutti e legato a questo l'altra caratteristica della Chiesa del Cristiano della Caritas è l'umiltà se volete la definiamo povertà spirituale quella che permette di raggiungere uomini e donne per i quali non avviene il discernimento e il riconoscimento se non da parte di chi si sente umile come loro bisognoso come loro della misericordia di Dio anche su questa necessaria consapevolezza Gesù ha avvertito lui è venuto davvero per i peccatori manifesti e soprattutto non dimenticatelo perché Gesù ha amato di più i peccatori manifesti è una domanda vera che dobbiamo farci perché aveva tanta simpatia per prostitute pubblicane eppure è così ce l'aveva ma perché ma mica per il peccato che facevano ma perché erano gli unici che sono peccatori manifesti la differenza tra me monaco e una prostituta è che io i peccati li ho nascosti la prostituta lo sanno tutti e allora la prostituta siccome tutti la giudicano dentro di sé prova vergogna e può mettersi in un cammino di conversione io da monaco che tutti venerano come una persona buona non ho mai stimoli in me di convertirmi e i miei peccati me li posso accudire e tenerli lì che intanto non mi danno danno perché poi la conversione lo sapete la conversione è una cosa difficilissima non diventano pubblici i peccati amiamo tenerli il più possibile e custodire una chiesa dei cristiani che non si impongono propongono con vitezza e dolcezza che stanno in mezzo agli altri con semplicità cercano di avere un bel comportamento anastro anastrofecale dice Pietro bel comportamento una pratica cordiale del confronto senza ostentazione di certezze in quest'ottica andrebbe ancora riletta l'esortazione di Paolo VI Evangelii Nunciandi che il Papa Francesco fa bene a definire il miglior testo del Magistero sull'Evangelizzazione insomma ci vuole quello spirito che Paolo VI diceva esattamente 60 anni fa ve lo ricordate in cui diceva la Chiesa deve guardare al mondo con immensa simpatia e se il mondo si sente estraneo alla Chiesa la Chiesa non può sentirsi estranea al mondo qualunque sia l'atteggiamento del mondo verso la Chiesa allora nessuna visibilità ad ogni costo dell'azione caritativa nessuna sovraesposizione nessuna tentazione di imporsi e di essere riconosciuti per il bene che eventualmente facciamo anche in questo caso valgono le parole di Gesù non sappia la tua sinistra quel che fa la destra e concludo concludo ritornando alla parabola del Samaritano però la muto un po' ma sono sicuro che Gesù Cristo non se la prende ve la racconto un po' diversamente sapete che un uomo scendeva da Gerusalemme al Gerico incappò nei ladroni lo spogliarono lo picchiarono lo lasciarono mezzo morto omo quidam passa un sacerdote passa un levita non si fermano vanno oltre non entrano in contatto non si sono fatti prossimi e di conseguenza hanno perso l'occasione di fare la carità prima di tutti a se stessi e poi dice la parabola che passò un samaritano io amo dire passò un altro uomo 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 guida ma anche lui e quest'uomo che passò era a piedi come quello che incappò nei ladroni non aveva dietro di sé il giumento su cui cavalcare non aveva né olio né aceto né bende e non aveva neanche soldi arriva lì si ferma vede costui con ogni probabilità non si è neanche riuscito a parlare perché poi la lingua di quello non ci viene detta e allora cosa fa se se lo carica in spalle nel caldo del deserto di Gerico dopo un po' di passi sarebbero cadute tutti e due morti di sete non aveva la possibilità di portarlo a un albergo e farlo curare non aveva soldi non aveva il cavallo su caricarlo e ha fatto una semplice cosa gli ha preso la mano nella mano non sapeva dirgli niente e gli è stato vicino finché quello è morto chi ha dato la presenza la prossimità ha fatto carità quanto il samaritano non dimenticatelo che anche una caritas che non arrivasse ad avere mezzi e a fare tante cose può sempre fare la carità di chi dà se stesso la propria presenza per gli altri e questo è ciò che il Signore vuole grazie della scopla grazie a tutti grazie a tutti